Il capogruppo di Centro Democratico, Nicola Benedetto, ha annunciato che presenterà in Consiglio regionale una mozione sul centro di accoglienza degli immigrati di Ferrandina, gestito dalla Prefettura ed affidato alla cooperativa Auxilium. Lo scopo è quello di evidenziare impressioni, riscontri personali e testimonianze raccolte nella visita fatta qualche giorno fa e di sollecitare una iniziativa di controllo sull'operato dell'organismo al quale sono affidati i compiti di gestione dei delicati servizi. Durante la presentazione a Matera del dossier statistico sull'immigrazione 2015, afferma Benedetto, c'è stata la testimonianza diretta di un profugo africano sulla situazione al centro di Ferrandina che, così come è stata descritta, non ha nulla a che vedere con il modello sostenibile di accoglienza perseguito dalla Regione. A parere di Benedetto, non possiamo tollerare che, mentre in Consiglio regionale approviamo una legge per aggiornare il quadro regolativo sull'immigrazione, nei centri di accoglienza accada quanto ci è stato denunciato. I tempi lunghi per il riconoscimento dello status di rifugiato, che si prolungano per mesi con esiti in molti casi incerti, non possono diventare un alibi a non far nulla.